Un ingresso deciso, tre uomini, forse dell'est Europa, con borsoni e cappuccio in testa in un albergo di Montegrotto in questo periodo aperto solo la sera per ospitare un corso di nuoto. Erano da poco passate le 21. Il terzetto ha immobilizzato il portiere legandogli i polsi. Vogliono la cassaforte. L'arrivo della titolare dell'hotel e di una sua conoscente non li fa desistere. Anche le due donne vengono legate. Nel frattempo arriva una quarta persona che subisce lo stesso trattamento, ma oramai ai malviventi, peraltro descritti come garbati, è chiaro che nell'albergo c'è troppo movimento. Arraffati i portafogli, tre si dileguano con un bottino di poche centinaia di euro, abbandonando i borsoni dentro i quali sono stati trovati arnesi da scasso.